Telebiella e niente fu come prima è il titolo del libro scritto dal direttore del biellese Silvano Esposito per i 40 anni della prima tv privata italiana fondata e tuttora diretta dal regista e giornalista Peppo Sacchi. Il libro edito dal centro documentazione giornalistica di Roma disponibile in edicola al costo di 16 euro è stato presentato da prima biella presso la sala convegni della fondazione della locale Cassa di Risparmio e stasera a Torino al circolo della stampa in un incontro organizzato dal critico televisivo Alessandra Comazzi segretario della subalpina che ne ha curato la prefazione. Una vera rivoluzione quella di Telebiella 21 che ha segnato la storia italiana ponendo fine al monopolio Rai con la liberalizzazione dell'Etere fino alla Mediaset. Dalla testata via cavo del 30 aprile 1971 alla web tv dei giorni nostri. Silvano il perché di questo libro? Proprio perché come dice il titolo niente fu come prima. 40 anni fa c'era una società italiana fatta in una certa maniera ma oserei dire anche una società europea fatta in una certa maniera. La battaglia di liberalizzazione del sistema televisivo condotta da Telebiella e da Peppo Sacchi ha cambiato, non so se in meglio o in peggio, questo lo giudica ognuno in base alla propria sensibilità, la nostra società. Quello che c'è oggi non solo dal punto di vista televisivo ma dal punto di vista culturale, sociale, anche politico ed economico è nato proprio da questa piccola grande rivoluzione di Telebiella. Tu la conosci anche bene? Sì, io ho cominciato la mia carriera a Telebiella. Oggi faccio un altro mestiere, dirigo un giornale. Il mezzo televisivo mi ha sempre affascinato e siccome considero Peppo un maestro di questo mezzo, da lui c'è sempre qualcosa da imparare. Per Peppo Sacchi, 40 anni dopo, Telebiella prosegue? Telebiella prosegue, Telebiella è immortale. Come il suo fondatore? Come idea, come la libertà. Telebiella è la libertà e di conseguenza la libertà continua in modo più o meno esteso a dire quello che gli altri non dicono o dar voce a chi voce non è abbastanza. A insegnare ai giovani come si fa la televisione, come si comunica con gli altri. C'è anche un corso proprio imminente a Cittastudi con Radio Locale, Cittastudi e Telebiella A21. Che è il sito www.telebiella.it ed è anche il corrispondente, come tu stai facendo in questo momento, di Telecupoli che è un emittente che tutti conoscono interregionali. Le trasmissioni di Peppo Sacchi, Ivana Ramella e Amici continuano. Grazie.